Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Giulia della farmacia Longo di Roma e oggi andremo ad affrontare insieme la sindrome metabolica. Ma che cosa si intende per sindrome metabolica? La sindrome metabolica altro non è se non un insieme di fattori di rischio legati a condizioni che aumentano la possibilità nel soggetto interessato di sviluppare patologie di natura cerebrale cardiovascolare ma anche al diabete. Quali sono le cause che predispongono il soggetto all'insorgenza di questa sindrome? Innanzitutto l'obesità, infatti la prima causa che provoca appunto questa condizione patologica è un eccessivo accumulo di grasso viscerale ovvero quello localizzato a livello addominale ma anche altre condizioni come per esempio un'ipertensione arteriosa oppure soggetti che sono affetti da insulino resistenza oppure elevati valori di trigliceridi e LDL cioè il colesterolo cattivo a discapito di quello buono quindi bassi valori di HDL. Qual è la popolazione maggiormente colpita dalla sindrome metabolica? Studi epidemiologici hanno mostrato che i soggetti maggiormente colpiti hanno una fascia d'età compresa tra i 50 e i 60 anni mentre non è possibile ottenere dei dati certi e concreti per quanto riguarda la popolazione infantile quindi principalmente l'età pediatrica anche se la sindrome metabolica sta dilagando anche tra i più piccoli a causa dell'incremento della bisietà infantile spiccatamente presente nei paesi industrializzati. Quali sono i sintomi legati alla sindrome metabolica? Purtroppo i soggetti che sono affetti da tale disturbo non mostrano alcun sintomo anzi in presenza del medico stesso dichiarano di sentirsi bene per cui come possiamo prevenire la sindrome metabolica? Sicuramente conducendo uno stile di vita sano basato su un'alimentazione equilibrata a basso contenuto calorico laddove è richiesta la perdita di peso oppure conducendo in concomitanza attività sportiva prettamente di natura aerobbia infatti è consigliato una camminata anche semplicemente di 30 minuti al giorno ridurre il fumo se non smettere completamente di fumare perché è stato visto come la nicotina contenuta nelle sigarette aumenta i picchi di natura glicemica oppure nei casi più gravi ricorrere all'utilizzo di farmaci ma sotto stretto controllo medico. Perché farmaci? Come ho detto in precedenza la sindrome metabolica si manifesta quando un soggetto è affetto da una o più patologie concomitanti tra cui per esempio l'ipertensione arteriosa oppure fenomeni di ipercolesterolemia. Per altri consigli seguiteci sul sito easypharma.it altrimenti ci trovate in presenza a Piazza Vittorio Emanuele numero 46. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!